Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No. Io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Sialo d'altro Gesù Cristo. E' talmente sconvolgente questo capitolo dodicesimo del Vangelo di San Luca, è talmente spiazzante che, nonostante l'abbia letto già qualche volta, adesso, mentre lo proclamavo, ho sbagliato a leggere. Nel senso che, se avete sentito, ho detto una frase che non ha senso, perché pensate che se è venuto a portare pace sulla terra, io ho letto no, come se si fosse poi un punto, perché a me sono, sono rimasto lì, fermo, in questo no. Poi io vi dico, ma divisione, avrei dovuto dire no, io vi dico, ma divisione. questo no è grande come un mondo, capite? E' un no pesantissimo. E' un no che ci coglie completamente impreparati. E' un no che spiazza. E' un no che lascia estere fatti. Perché uno invece pensa che Gesù è venuto a portare la pace sulla terra. Nonostante siano passati duemila anni, noi ancora oggi ci illudiamo vicendevolmente, e oggi forse più che mai, a pensare che Gesù è venuto a portare la pace. e quindi rimaniamo sistematicamente, costantemente, stupiti, avviliti, delusi, amareggiati, ogni qual volta quello che c'è scritto qui nel Vangelo si realizza. Però Gesù ce l'ha già detto. Ma siamo talmente convinti che non è così, che ogni volta che succede restiamo perplessi. Quindi, pensare che Gesù è venuto a portare la divisione per noi è impossibile. E' troppo sconvolgente questa cosa. E infatti non ne parliamo mai. Non aiutiamo mai a capire come vivere questa divisione. In che modo porsi dentro a questa divisione. e da qui quindi partono sensi di colpa, sensi di angoscia, ricatti affettivi, ricatti morali, da qui parte il senso di essere sbagliati, di non vivere bene la propria fede. Viene fuori un disastro da questa cosa. perché noi vogliamo rimuovere la divisione. Quindi iniziamo novene, preghiere, pellegrinaggi, digiuni, ma la divisione non si può rimuovere. È congenita all'essere di Gesù. Se tu sei di Gesù, tu devi di necessità sperimentare purtroppo questa divisione, che è la divisione che c'è tra le tenebre e la luce. Quando sorge il sole, le tenebre finiscono. Quando il sole tramonta, iniziano le tenebre. Ma non può esserci un momento in cui c'è luce e tenebre. Non c'è. C'è persino nel creato questo segno inequivocabile che ti dice se c'è la luce, non c'è le tenebre. C'è una divisione netta, assolutamente netta, tra luce e tenebre. Così come c'è una divisione netta tra Gesù Cristo e il suo nemico, il demonio, tra Gesù Cristo e il mondo, tra Gesù Cristo e la carne, dice San Giovanni. E noi non possiamo risolverla, questa divisione. Tutte le volte che qualcuno ci insegna ci dice di risolvere questa divisione ci sta ingannando. E se noi ci crediamo entriamo dentro a un corto circuito che alla fine ci fa impazzire. D'orinnanzi, dice Gesù, in una famiglia. Non dice nel posto di lavoro, tra gli amici, no, in una famiglia, cioè nel luogo più delitto, peccato, più importante, più prezioso, quello che ci vivi 24 ore su 24, che ci ritorni sempre. Cosa c'è più importante in una famiglia? Ecco, Gesù dice, d'orinnanzi, in una famiglia, se vi sono cinque persone, saranno divise tre contro due, due contro tre. Perché? Per causa mia. Ma in che senso per causa di Gesù? Questa va capita, no? Cioè, Gesù non è che è il colpevole, non è che è la colpe di Gesù. Gesù non c'entra niente. La divisione radica la sua ragione d'essere nella opposizione a Gesù, nel fatto che io non voglio Gesù. È lì che si radica la divisione. Noi possiamo anche togliere tutti i crucifissi dalle scuole, no? come vuole qualcuno. Va bene. Togliamo tutti i crucifissi dalle scuole. E cosa abbiamo risolto? Niente. Niente. Perché tu non puoi togliere Dio dall'anima di una persona. Non si può. Non puoi togliere la domanda fondamentale di Dio dalla coscienza di ciascun uomo. Puoi dire no, certo, con tutte le sue conseguenze, ma non puoi togliere quella domanda. Togliamo tutti i segni, buttiamo giù tutte le chiese, va bene, buttiamo giù tutte le chiese, togliamo tutti i segni. E quindi, e quindi quella domanda griderà sempre più forte. Perché te la porti dentro, te la porti dentro nell'anima, nella mente, nel cuore e quella non la puoi togliere. Perché? Perché tu sei tanto creato immagine e somiglianza di Dio. E quindi quella somiglianza non te la può togliere nessuno. Salvo che tu ti ti lobotomisci che tu impazzisci, che tu perdi la coscienza di te. E allora come dobbiamo viverla questa divisione? Dobbiamo viverla con tanta consapevolezza. che non è una divisione causata da me. Non sono io che sono sbagliato. Non è Padre Pio che era sbagliato. Non è San Giovanni Maria Vianney che era sbagliato. Non è San Giovanni della Croce che hanno sbattuto in prigione per nove mesi e sono quasi riusciti a buttarlo fuori dall'ordine. Non è lui lo sbagliato. non è San Francesco che muore anche lui in mezzo in esilio. Non è Sant'Atanasio. Non sono loro gli sbagliati. Gli sbagliati sono tutti coloro che non accettano Gesù e la sua radicalità, la sua verità. Questi sono gli sbagliati. E quindi questa divisione come bisogna viverla? vivendola. Accettando con grande pazienza e grande spirito di sacrificio di partecipare a quella divisione che per primo Gesù Cristo ha vissuto su di sé, dentro di sé. A quella divisione radicale che ha vissuto con Giuda. Una divisione terribile. La divisione che ha vissuto con gli scrivi farisei, con i sacerdoti. la divisione che ha vissuto nel momento della sua passione. Persino le vesti hanno cercato di dividere. E se la sono divisa, non l'hanno strappata, ma se la sono divisa. Tutto in Gesù dice divisione. E per noi non può essere diverso. Quindi se succede e succede e succede se succede e succede e cosa fare? niente, andare avanti e credere in Gesù. Badate, badate. Non capiti a noi ma la disgrazia di fare un passo indietro rispetto a Gesù. Per trovare una falsa pace, per salvare una falsa realtà di amicizia, di fidanzamento, di amore, dove non c'è Dio non ci sarà mai né vera amicizia, né vero amore, né vero fidanzamento, né, 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 né. Né vera pace. Mai un passo indietro. Perché posso fare un passo indietro su tutto, ma non su Gesù. Se lo fai, ricordatevelo bene, se lo fai, perderai Dio e gli uomini. È solo un'illusione. È solo una tentazione del demonio questa. E allora dobbiamo chiedere al Signore la grazia di sapere, una grazia grande che dobbiamo chiedere, di sapere essere fermi. Cos'è che abbiamo letto nel canto al Vangelo? Tutto, dice San Paolo, tutto lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Ecco, questo sia il nostro motto. Tutto ho lasciato perdere, tutto. Sono pronto a perdere tutto. Tutto e tutti, aggiungo io. Tutto e tutti. Diventerete antipatici? E sia. Va bene. Diventerete, non lo so cosa vi diranno, qualunque cosa, va bene. sia qualunque cosa. Sono pronto a perdere tutto. Vi porteranno via tutto, ma portatevi a tutto, tanto alla fine gli lasceremo sta carcassa e sarà finita lì, Tutto lasciato perdere e considero spazzatura. Niente ha valore per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Ecco, magari un giorno quando moriremo sulla nostra tomba sarebbe bello che fosse scritta questa frase di San Paolo. Ve le immaginette che fanno con i nostri volti dopo morte. Ecco, fosse bello che questa frase fosse la nostra frase, la sintesi della nostra vita. Il prezzo è alto, è vero, è altissimo, non è alto, è altissimo. Ed è un prezzo che spesse volte bisogna pagare minuto dopo minuto, giorno dopo giorno nella propria vita. È terribile, è un martirio costante, lo so. ma dobbiamo farci coraggio, dobbiamo essere forti, dobbiamo ritirarci in piedi e dire tutto lasciato, perdere, considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Siero dato, Gesù Cristo. Grazie a tutti.